ciao a tutti ragazzi sono diego oggi vedremo un seed dove potremo trovare subito un alleato ecco è vero questo seed ci fa spawnare vicino a un villaggio di pillager quindi ci comincerà ci converrà a cominciare a tarellare velocissimo però guardate se andiamo in questa direzione abbiamo anche un villaggio quindi risorse per cavarcela ma guardate qua cosa abbiamo rinchiusi proprio qua eccoli qua i due alleati ciao alleati ed eccoli qua quindi possiamo subito sfruttarli come amici adesso sono in creativa sennò qua mi ammazzano subito cosa fa l'alleato l'alleato ha uno slot e ci può aiutare dandogli mano un tipo di oggetto che ne so un pezzo di legno lui raccoglierà altri pezzi di legno da quelli ed ecco questo seed dove troveremo subito gli alleati per questo video è tutto ragazzi iscrivetevi al canale e buon divertimento iscriviti al canale grazie a tutti